Diego Abba D'Antuono per esempio penso sia il miglior raccontatore di aneddoti della storia non ho mai incontrato nessuno con quel ritmo con quell'abilità nel raccontare però se ti capita chiedigli una storia di quando stava in vacanza e lui si sveglia molta molta sede avevano fatto serata la sera prima ed è un racconto che ti fa morire di sete a perché talmente ti trasmette quella sensazione e poi c'è un bellissimo finale prova la chiede va bene sarà fatto è molto molto Diego è magico cioè